Il caso di Martina Rossi, la giovane studentessa Ligure, morta il 3 agosto del 2011 precipitando dal balcone di una camera d'albergo di Palma de Mallorca, approderà nell'aula del GUP. È stata infatti fissata per il 24 maggio prossimo la data dell'udienza preliminare. Davanti al giudice compariranno i due giovani Aretini, Alessandro e Lucca, entrambi di Castiglion Fibocchi, che quella notte si trovavano nella stanza dell'hotel Sant'Anna, dal cui balcone al sesto piano precipitò la ragazza. I due giovani devono difendersi attraverso i propri legali dall'accusa di morte in conseguenza ad un altro reato, come si legge nella richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla procura Aretina. La famiglia è sempre stata fiduciosa, animata da un profondo spirito di giustizia. Quella giustizia che però, va detto, era stata negata in Spagna, dove con un comportamento oggettivamente inqualificabile, la mattina stessa in cui Martina è precipitata dal sesto piano, la stanza, anziché essere sequestrata, veniva rioccupata da altre persone il pomeriggio, questa è giustizia, a mio avviso proprio no. L'autopsia è stata fatta e i vestiti non sono stati conservati, è giustizia, e quindi la famiglia, consapevole di due cose, che non era stata fatta giustizia in Spagna e, ancora prima che la loro figlia mai e poi mai si sarebbe suicidata, hanno chiesto fin da subito, tornati in Italia, e hanno ottenuto questo primo fondamentale passaggio, che è la richiesta da parte della procura che un processo venga finalmente celebrato.